Buongiorno a tutti, ben ritrovati con The Globe, l'appuntamento mensile con le VUD Eurizon. Primo appuntamento del 2023, un anno che è iniziato bene per i mercati finanziari, tassi governativi che hanno dato accenni di ridiscesa tanto negli Stati Uniti quanto in Germania e in Eurozona, borse che tentano di recuperare e il dollaro in depreciamento abbastanza evidente nel corso delle ultime settimane. Sono tre tendenze in controtendenza rispetto al 2022 e lo sono per lo stesso motivo però al contrario che aveva mosso appunto i mercati in maniera avversa in quel caso nel 2022. Rialzo dell'inflazione che ha fatto muovere i mercati in maniera avversa segnali di discesa dell'inflazione, sempre più evidenti negli Stati Uniti, iniziano a divenziarsi in Eurozona che sta supportando i mercati nella direzione opposta. Chiaramente se l'inflazione comincia a scendere e continua a scendere, questo chiama la fine della restrizione monetaria da parte delle banche centrali, che anche quello è stato un grosso tema del 2022, negativo per i mercati. Qui sappiamo le banche centrali hanno preannunciato che per i primi mesi del 2023, complice a un ciclo economico ancora relativamente forte, continueranno ad alzare i tassi per assicurarci che la discesa dell'inflazione sia vera, sia permanente, però ormai per la Federal Reserve si preannuncia la fine e un rallentamento delle misure di rialzo dei tassi. La BCE, visto che il ciclo dell'inflazione è un po' più in ritardo, sarà veramente nei primi mesi dell'anno un pochettino più veloce nell'alzare i tassi di quanto non sia la Fed, però l'idea è che per entrambi nel primo trimestre finisce la restrizione monetaria. Se così è, il tema che guadagna sempre più attenzione è quello del rallentamento economico, del tipo di rallentamento economico che sta avvenendo, soprattutto nelle economie sviluppate. Stati Uniti e Eurozona stanno già rallentando, dopo il picco straordinario di crescita delle riaperture post-Covid, le attese di consenso sono per quello che si dice un rallentamento dolce, cioè una crescita che va a sfiorare lo zero e poi riparte trovando finalmente la sua velocità di crociera tipica dopo la turbolenza post-Covid. Perché possiamo pensare che questo scenario di rallentamento dolce sia quello da prendere di riferimento? Perché appunto innanzitutto c'è ancora molto sostegno all'economia per quanto stia rallentando dagli stimoli dati nel corso degli ultimi anni. Poi ad esempio va notato che a fronte di un rallentamento di Stati Uniti ed Eurozona la Cina invece sta riaccelerando. La Cina che va rallentata nel 2022 sta riaccelerando grazie a riaperture post-Covid che stanno venendo lì da lei. Quindi sono elementi che compensano il rallentamento delle economie sviluppate con ripresa di economie emergenti. Però sarà importante vedere l'effetto segnaletico nel tema rallentamento dolce o rischio di rallentamento duro. L'elemento segnaletico sarà probabilmente dato dal mercato del lavoro. Quindi come l'anno scorso si era guardato molto ai dati di inflazione quest'anno si guarderà molto ai dati del mercato del lavoro. In particolare il mercato del lavoro americano avrà il solito effetto di tipo segnaletico per il resto delle economie. Questa è la fotografia del mercato del lavoro americano dove è successa una cosa molto strana, molto particolare dopo la ripartenza Covid che ha segnato un vero e proprio eccesso di crescita economica che si è tramutato in un eccesso di domanda di lavoratori da parte delle imprese. Imprese che vedete mai successo prima in una maniera enorme richiedono molti più lavoratori di quanto non siano disponibili. Questo è quello che ha creato il picco di eccesso di crescita, il picco di inflazione e quello è il motivo per cui la Federal Reserve ha voluto frenare questo fenomeno che poteva innescare un circolo vizioso tramite i salari. Quindi qui l'idea è che il rallentamento della crescita economica rallenterà anche la domanda di lavoratori andando a ristabilire nelle situazioni più equilibrate. Fintanto che c'è questo scarto significa che c'è un eccesso di crescita economica, quindi la crescita economica non rischia di rallentare troppo. Chiaramente da qui in avanti dovremmo osservare l'aggiustamento sul mercato del lavoro. Se sarà un aggiustamento dolce di riequilibrio è lo scenario di riferimento, quello del soft lending, il rallentamento dolce per l'economia globale. Dovesse il rallentamento essere troppo pronunciato sarebbe da considerare come scenario di rischio, scenario di hard lending. Questo sarà il tema principale di attenzione da qui ai prossimi mesi. Come siamo posizionati e dove troviamo opportunità sui mercati finanziari in questo contesto? Mercato obbligazionario. Questa è la fotografia del mercato obbligazionario con le curve invertite che già guardano al rallentamento economico. Continuiamo a considerare, lo consideriamo da alcuni mesi, interessanti i tassi obbligazionari. Sulle parti breve, intermedie, sono dei rendimenti interessanti in termini di rendimento a scadenza. Le parti lunghe possono proteggere, avendo tassi che possono scendere ancora tanto, nel caso in cui si dovessero emergere segnali appunto di rallentamento duro di hard lending per l'economia globale. Sulle altri mercati obbligazionari, in generale nel 2022 con i mercati che sono andati tutti male, si sono allargati gli spread, ci sono occasioni valutative interessanti un po' ovunque, però noi dicendo appunto, partendo dal fatto che siamo positivi sui tassi sottostanti, troviamo interessanti ad esempio le obbligazioni corporate investment grade dove c'è uno spread molto molto ampio. Sulle obbligazioni più rischiose la nostra preferenza va a quelle emergenti, i tassi a scadenza sono molto elevati, gli spread sono ampi e appunto se la parte emergente, soprattutto quella asiatica, dovesse riaccelerare, questo può essere un supporto interessante per i mercati obbligazionari emergenti. Mercati azionari, anche qui dal punto di vista valutativo le indicazioni sono interessanti in ottica di medio termine, le valutazioni dei mercati europeo ed emergenti sono molto basse, anche quelle del mercato americano non sono particolarmente a sconto ma sono interessanti. Il premio a rischio dell'investire nel mercato azionario rispetto al mercato obbligazionario c'è, i premi a rischio tanto nel mercato europeo quanto nel mercato americano sono più o meno in linea con le medie degli ultimi vent'anni, non c'è premi a rischio, non sono poco interessanti come potevano essere in anni passati. Il punto diciamo se vogliamo critico per i mercati azionari è che con un rallentamento economico e con un rischio di rallentamento pronunciato stanno rallentando gli utili, quindi la crescita degli utili sta rallentando, gli analisti li stanno rivedendo verso il basso. È un processo che è già iniziato, è un processo che però ancora non è estremo, quindi non copre completamente quel rischio di scenario di hard landing per l'economia globale di cui abbiamo parlato. Noi abbiamo iniziato l'anno, abbiamo finito lo scorso anno iniziato questo, positivi, sovrappesati di mercati azionari nell'idea che fin tanto che prevale la combinazione di rallentamento dell'inflazione e rallentamento dolce dell'economia i mercati azionari possano fare bene. Però non escludiamo che nel momento in cui il rallentamento economico prosegue ritorni un po' di volatilità sui mercati azionari che per gli investitori finali potrebbe essere però l'occasione per accumulare mercati azionari, perché in ogni caso non pensiamo che se anche il rallentamento sarà molto pronunciato che sarà molto lunga la fase di crisi economica, perché a quel punto le banche centrali potranno sostenere il ciclo economico abbassando i tassi di interesse. Infine le considerazioni sui mercati valutari, dicevamo veniamo da un anno in cui il dollaro si è rafforzato, ha anche agito da valuta rifugio rispetto alla grande incertezza di rialzo dei tassi di interesse globali e inflazione, nel momento in cui questi due temi si invertono il dollaro può smettere di essere valuta rifugio. In più abbiamo notato come i tassi europei stiano salendo nell'ultimo periodo di più di quelli americani perché la banca centrale europea è in ritardo rispetto all'inflazione. Questo pensiamo possa continuare a sostenere un recupero dell'euro, quindi siamo sottopesati di dollaro in questo momento proprio perché c'è questo scarto di alcuni mesi in cui la banca centrale europea sarà un po' più severa della Federal Reserve. Questo è quanto per le considerazioni di questo inizio 2023, le nostre considerazioni sul ciclo economico, sulle variabili da seguire, sul posizionamento e sulle opportunità che i mercati possono offrire. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento a The Globe del mese prossimo.